Sì, oggi abbiamo fatto una partita di sostanza, finalmente, dove la squadra dall'inizio ha dimostrato la volontà di provare a vincere, questo è quello che gli si chiede sempre, sembra un paradosso, ma nelle ultime due partite non avevamo sicuramente dato segnali confortanti da questo punto di vista, invece oggi si è visto dall'inizio che la volontà era quella giusta e si è vista soprattutto difensivamente perché di là c'era una squadra di grande talento che ha segnato 100 punti in ultima partita, quindi una squadra che si è lasciata a giocare in attacco produce moltissimo, invece sono stati abbastanza solidi e bravi, tutto sommato non è complesso a controllare la situazione, mi ha fatto un po' di fatica nei finali di secondo e di ultimo quarto, però direi che abbiamo vinto con merito. Sì, vengono a premiare comunque in picco perché si tratta solo di una partita, l'ennesimo sforzo del club che io da allenatore devo ringraziare per il supporto che anche dopo cinque sconfitte consecutive ha continuato a dare, dimostrandolo effettivamente, prendendo questi due ragazzi per affrontare questa ultima parte di campionato nel migliore dei modi, a testa alta, cercando di divertirci e di giocare con l'approccio giusto alle partite. Il loro apporto è stato più che discreto considerando che li abbiamo visti venerdì e quindi 48 ore hanno fatto abbastanza, poi un po' sono stati attenti a non combinar guai, un po' dovevano prendere, come ha fatto alla fine molto bene, anche tutto sommato, la situazione, il ruolo dedicato come il suo di playmaker, quindi io penso che ci daranno sicuramente un contributo estremamente positivo anche nelle prossime partite e che potrà solo migliorare. Qui in tetto tutto oggi ha giocato una partita di grande sostanza, magari in pezzi della partita, sia Hayes, Lacovic, i due lunghi, Cavaliero, il primo tempo ha avuto qualche problema di falli, mi ha dovuto togli gestirlo un po'. Nel finale invece è stato molto bravo, un po' come quel killer instinct di andare a cercare i falli, i canestri importanti, noi sappiamo che su di lui possiamo contare e quindi bene così. Adesso i medici stanno valutando, sapremo qualcosa di più domani penso, perché a caldo è un po' difficile dire, potrebbe essere solo una lieve contrattura d'affaticamento al bicipite femorale della gamba e quindi speriamo che sia una cosa molto passeggera, anche se la diagnosi precisa avremo qualche esame più approfondito. In primis dobbiamo mettere in campo la stessa determinazione e volontà che abbiamo visto oggi. In secondo sicuramente i due nuovi potranno darci qualche cosa di più, senza guardare troppo avanti al nostro naso, oggi era troppo importante tornare a vincere dopo, perché cinque sconfitte consecutive sono un record negativo purtroppo abbastanza pesante e quindi abbiamo trovato la prima osi nel deserto, adesso dobbiamo cercare subito la seconda per non restare ancora settati. Al prossimo episodio